Beh, ma è una cosa indecente! Cosa mi stanno a significare tutti questi generali? Quali ideali possono trasmettere ai giovani d'oggi? Rispetto per la tigre? No! Questa scimmia coprofaga! E' questo grillo transessuale! Per non parlare poi di questi tre filippini patutati! Veicolo di un macismo deviante per i virgolti tra i cenni! No, che caro! Ma non li vedi? No! Inferno! Preparati ad abbracciarmi! E se vai dove si andò all'imparadiso! Aiuterò a fornare tuoi! Irnos, m'ai aperçu! Per ragazzi! Per ragazzi! Per ragazzi! Per ragazzi! post fata risurdo